Pressione in aumento, tempo stabile, temperature pure in aumento sul bacino del Mediterraneo centrale sulla nostra penisola per il primo assaggio di primavera. In Toscana, mercoledì 20 marzo, cielo sereno poco nuvoloso, venti deboli variabili nell'interno, deboli o moderati di scirocco altrove, mari poco mossi, temperature minimi in lieve calo nelle zone interne, massime stazionarie, un ulteriore lieve aumento con punte di 20-22 gradi. Tempo stabile e soleggiato anche sul territorio provinciale con locali velature in serata, a Lucca e sulla Piana temperatura minima 6, massima 19 gradi, a Castelnuovo Garfagnane zone montane minima 5, massima 18, a Viareggio sul litorale minima 8, massima 19 gradi. Di giovedì aumento della nuvolosità nel corso della giornata, con possibili isolate piogge nella notte.